Nella sua lettera, Libero Grassi, dice con molta serenità e molta decisione alcune cose molto semplici. Voleva avvertire il nostro ignoto estortore che non siamo disponibili a dare contributi. Molto semplice. Perché se loro pagheranno i 50 milioni che gli vengono chiesti, poi i mafiosi ne chiederanno ancora e saranno costretti a chiudere la fabbrica. Molto semplice anche questo. Se la fabbrica chiude, i 100 dipendenti, 10 donne e 90 uomini, perderanno il lavoro. Molto semplice e molto giusto anche questo. È una lettera molto semplice, così la dice, caro estortore, mi insisti, tanto io non ti pago, anzi ti suggerisco di non fare spese di mortaretti, bombe, cose varie, perché tanto non concludi niente. È una lettera così molto discorsiva. La lettera di Libero Grassi è la seconda lettera che ci serve per raccontare la nostra storia. È diversa da quella di Pip Whittaker, perché il giovane Whittaker si era semplicemente opposto alla mafia, ma senza denunciare, dicendo soltanto non pago. E dicendolo direttamente ai mafiosi. Libero Grassi, invece, denuncia. E denuncia pubblicamente. Riesce a far arrestare il geometra Anzalone, che è due persone, Antonio e Gaetano Abitabile, fratelli gemelli, mafiosi della famiglia della zona dei Colli di Palermo. Naturalmente lo mettono sotto scorta, ma lui la rifiuta. Non la vuole la scorta, vuole un'altra cosa. Vuole la sicurezza di poter fare il proprio lavoro che deve offrire lo Stato. E infatti fa fare quattro copie delle chiavi della sua azienda e le consegna alla polizia. Alla polizia la sicurezza dell'azienda, non alla mafia. A Gela paga il 90% dei cittadini. A Gela paga il 90% dei cittadini. Ebbene, io non mi piace pagare. Perché lo rinunzio è una rinunzia alla mia dignità di imprenditore. Io divido le mie scelte con il mafioso. Questo è il vero fatto. Non è che io non abbia avuto avvicinamenti. La prima estruzione è sempre un'estruzione di avvicinamento. Il famoso zio Stefano che mi telefonava. Il buon amico. Il buon amico. Mi offriva questa, la protezione, i tuoi affari migliori d'anno. In fondo non faceva molta pressione per avere subito i soldi. Posso entrare in società? Sì, no, no, no. Quello non è arrivato. Perché lei non ha pagato nemmeno la tangente. Perché prima bisogna pagare la tangente e poi c'è la richiesta. Non pago, esatto, preferisco stare nei miei affari. E se ho fatto questa azione, un pochettino, è perché credo soprattutto ai mass media. Libero Grassi diventa subito il simbolo della lotta al sistema assassino del racket. Finisce sui giornali e va in televisione. E se le cose fossero andate come dovrebbero andare, a quest'ora il racket delle estruzioni non ci sarebbe più. E noi non saremo qui a parlarne così. Ma i tempi non sono ancora maturi. Il 30 agosto 1991, il Corriere della Sera pubblica un'altra lettera di Libero Grassi che racconta la propria storia. Anche questa è una lettera serena e decisa, ma con qualche punta di amarezza. Perché il presidente delle associazioni industriali ha detto che le denunce di Libero Grassi hanno sollevato un gran polverone, una tammuriata, hanno fatto troppo chiasso insomma. O perché un giudice istruttore di Catania ha assolto alcuni imprenditori accusati di aver favorito e pagato la mafia. Con la motivazione che visto che la realtà è quello che è, non potevano fare altro per evitare guai maggiori. Non ha letto il direttore dell'associazione industriale, un uomo potente, ricco, colto e professore d'università. Ha detto questo, riguardo le estorsioni rappresentano un dettaglio che probabilmente interessa meno l'industria. E in questo senso è stata meraviglia, praticamente paura, che siano stati notati avvicinamenti. Questo lo dice il direttore della Confindustria. Sono sempre molto semplici le parole di Libero Grassi. Un giorno dice un'altra cosa, anche quella molto semplice. E fa anche un conto, da imprenditore, da uomo d'affari, da persona per bene. Dal momento che lui, con le sue denunce, ha mandato in galera otto mafiosi, se 200 imprenditori denunciassero, 1600 mafiosi finirebbero in manette. Ma i tempi non sono ancora maturi. La lettera viene pubblicata sul Corriere della Sera il 30 agosto 1991. Il giorno prima, il 29 agosto, sotto casa sua, in via Delfante, a Palermo, Libero Grassi è già stato ammazzato. È successo che intanto... Dunque mia figlia era in Spagna con il suo recentissimo marito. Infatti Alice è stata rintracciata all'Interpol. E questa è una cosa molto... Che a me mi è rimasta sempre molto... Mi ha colpito molto. Che Alice che appunto è arrivata qui, ha trovato il padre... Così... E' ucciso in questa maniera. E lei e il suo marito dissero che... Alice ha detto... Cioè questa è una città che non merita bambini. Cioè questa è una città che non merita bambini. Il nostro funerale è stato laico. C'eravamo noi quattro, cioè io con i miei figli relativi compagni e compagni. E dietro c'erano tutte le maestranze di fabbrica. E poi dietro c'erano le cosiddette persone importanti. Di cui a me non me ne importava niente. La prima cosa che ho pensato, dopo lo shock, ho pensato... E ora che faccio? Perché era chiaro che qualche cosa andava fatta. Io non lo so. E' stato questo pensiero che poi dopo, non lo so perché... Che poi dopo, dopo tempo...